Il Candaun avverrà 24 ore prima di quello delle altre piazze abruzzesi. L'obiettivo è quello di aprire le danze un giorno prima e rendere l'avvio del nuovo anno diverso dal solito. L'idea è del comune di Spoltore che ha organizzato un veglione ricco di appuntamenti a partire dalle 21.30 di giovedì 30 dicembre. È una bella iniziativa, ci saranno tante tante belle novità. Si svolgerà sulla piazza di Marzio e in caso di maltempo nei locali della Cripta, proprio lì a fianco alla piazza, e ci sarà il gruppo del Maestro Valore, il Contemporary Vocal Ensemble, veramente uno spettacolo di altissimo livello. Ci saranno tante belle novità, il Jet Set, insomma veramente tante belle cose a che da Spoltore si inizia a festeggiare il nuovo anno. Spoltore richiama poi tutti, non solo gli spoltoresi, ma tutti quelli che vorranno venire a vedere Spoltore, a festeggiare a Spoltore questo inizio della festa del fine anno. È chiaro che noi ci aspettiamo tantissima gente perché comunque questo cartellone delle manifestazioni natalizie sta andando molto bene, abbiamo coinvolto tantissime associazioni locali.